Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Odessa, ci colleghiamo subito con Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal che è appunto collegato da Odessa, come voi sapete già da tempo. Cominciamo con le notizie di cronaca, andiamo per ordine, quello che riguarda la città dove vivi, il fronte del Donbass e lo Stato militare, perché oggi gran parte delle domande, lo dico già sia a te che al pubblico, sanno di natura diplomatica, visto quello che sta succedendo tra Zelensky e i fornitori di armi, diciamo così, cioè l'Occidente. Cominciamo però con Odessa. Odessa sta studiando questa grande novità che è l'affermazione fatta dal Ministro degli Esteri italiani, che è stato a Kiev i giorni scorsi per incontrare tutti i Ministri degli Esteri dell'Unione Europea, un gesto anche molto forte di andare tutti quanti a Kiev, ma ha approfittato del momento importante non solo per ribadire il saldo appoggio dell'Italia all'Ucraina, soprattutto nell'ambito della decisione di entrare in Unione Europea, ma ha annunciato il patronaggio o patronage dell'Italia su Odessa, cioè da questo momento ufficialmente la mia città, con grande piacere di me che sono un italiano, è sotto la tutorship, sotto la protezione, sotto la cura del governo italiano che lancerà un progetto molto ambizioso di restauro degli immobili distrutti dai droni kamikaze e dai missili russi, ma non è soltanto un restauro, è un'operazione ambiziosa di rigenerazione urbana, di aiutare i cittadini a recuperare non soltanto la bellezza estetica delle faccette dei palazzi, ma anche il loro uso. Ne eravamo consapevoli, c'era stata tre settimane fa esattamente una visita di ispezione, ma adesso il Ministro degli Esteri ha esposto il governo in questo progetto ambizioso. Allora Ugo, visto che hai citato Tagliani, prima di parlare delle notizie della guerra in senso stretto, concludiamo questa parte diplomatica perché il nostro Ministro degli Esteri ha anche detto altre cose sul tema che ho anticipato prima, un tema fondamentale per Kiev, quello della fornitura di armi. Vero, il nostro Paese mantiene di impegno il principio, diciamo atlantista, diciamo così, di fornire armi a Kiev, però Tagliani ha detto certo dobbiamo vedere che cosa possiamo dare, quali armi in relazione al non smantellamento del nostro esercito, delle nostre capacità di difesa. E aggiungo che in una specie di call di tutti i leader occidentali, anche con Biden, la Premier Meloni ha detto però attenzione, certo noi rimaniamo disponibili, però attenzione a quelli che sono poi gli effetti collaterali come energia, caromaterie prime, inflazione, perché non si sa per quanto tempo l'Occidente, lo traduco io in soldoni, può sostenere queste cose. Allora, sono tutti segnali di disponibilità, però mi sembra che qui e là si cominciano a mettere delle condizioni, noi siamo poi, lo vedremo, diversi dalla Slovacchia, diversi dalla Polonia, poi vedremo quello che è successo in America, però anche chiudiamo con l'Italia, Ugo, anche noi stiamo cominciando a mettere delle piccole condizioni, che poi tanto piccole nel tempo magari non sono. Ma diciamo, è evidentemente un trend che va studiato perché obiettivamente, ma lo sapevamo, non solo la politica esteroamericana che ha questa scadenza della campagna elettorale, ma anche i stati europei iniziano a essere preoccupati perché le popolazioni, l'opinione pubblica non è disponibile a sostenere una guerra senza avere una, diciamo a breve, una possibile risoluzione. Infatti la Slovacchia ne è un esempio, la Slovacchia non è un paese che ha questa grandissima importanza in questo schieramento, ma la Slovacchia, la notizia di oggi, l'abbiamo appena pubblicata su The Odessa Journal, ha deciso di smettere l'invio di armi. Attenzione, quando si smette l'invio di armi significa che si bloccano gli ordini futuri, ma quelli già presenti nei mesi successivi devono essere completati, però è un segnale molto importante. Anche l'Italia inizia a porsi questo problema. Da un punto di vista di aiuto dell'Italia segnalo che l'Italia ha insieme alla Francia, perché lo producono insieme, un sistema antimissilistico molto sofisticato e tra i migliori al mondo. Ecco, cedere all'Ucraina o dare o vendere a rate questo sistema incentivando la nostra industria a produrne di nuovi è comunque una cosa che ha anche un effetto sul pile, che comunque genera un vantaggio reciproco, sia per l'industria italiana che per la difesa ucraina. Quindi esistono anche questi tipi di collaborazioni industriali che non vanno assolutamente traspurati. Ecco, ne diamo altre informazioni perché non tutti sanno che ci sono state le elezioni in Slovacchia, che ha vinto un signore che era già stato leader, si chiama Robert Fico, che è socialista ma anche populista, che in questo caso più che mette delle condizioni ha messo al centro della sua campagna elettorale, nel suo discorso programmatico, la cessazione delle forniture di armi a Kiev, che poi dopo vengono mantenute le armi per un periodo. Questo poi bisognerà vedere se poi, queste sono cose che si dicono quando si vincono le elezioni, poi bisognerà vedere se la piccola Slovacchia nei rapporti economici con l'Unione Europea, compresa l'agricoltura e altre cose, potrà mantenere questa posizione così distante da alcuni atteggiamenti di massima dell'Unione Europea. Però al di là di questo, c'è stata anche una volontà politica chiara di dire no, così come era stata ambigua, noi l'abbiamo delucidato nella scorsa puntata all'atteggiamento della Polonia su armi a grano e stavolta non ci torniamo. Abbiamo chiarito la Slovacchia, abbiamo chiarito l'Italia, andiamo all'America. In America è successo qualcosa di più preoccupante perché ne parlo di nuovo i giornali italiani anche oggi, in breve, per non fare qui un summati di esteri, però nel Parlamento americano per trovare una sintesi fra democratici e repubblicani per evitare il shutdown, cioè praticamente il default amministrativo, la parte soprattutto ultras dei repubblicani ha preteso che in cambio di questo accordo l'America di fatto smettesse di dare armi, soprattutto i finanziari, i soldi, perché le armi sono soldi, vuol dire tanti soldi, tanti dollari in armi per l'Ukraine. Poi Biden ha detto no, attenzione, questo è un accordo importante, ma poi tratteremo, noi ci manterremo alleati fedeli di Kiev e daremo le armi, però insomma è un episodio abbastanza complicato, no? Non c'è dubbio, però cerchiamo di pensare che sono schermaglie per la campagna elettorale, tra l'altro gli repubblicani sono anche spaccati su questo tema, perché molti repubblicani classici, non i trampiani, ma quelli se vogliamo reganiani, sanno benissimo che l'investimento americano nella guerra di Ucraina rispetto al gigantesco budget che hanno è minimale, quindi è comunque un grande affare per loro, l'esercito russo si sta completamente consumando e gli americani hanno investito pochissimo rispetto a quello che sarebbe stata una guerra diretta. Però ecco, non c'è dubbio che anche queste cose vanno tenute presente, gli ucraini stanno rendendosi conto che non è così scontato che il mondo occidentale li segua fino in eterno, insomma ci sarà un limite che dovranno, e questo è una sveglia, una specie di piccola tirata d'orecchie. Senti, il leader ucraino Zelensky ha parlato anche in Italia, ha fatto un'intervista con Sky per la celebrazione dei vent'anni di Sky in Italia e ha detto sì, è vero, la controoffensiva va avanti lentamente, ma va avanti, l'inverno sarà duro perché non avremo l'energia, non ci potremo riscaldare, i russi faranno tutti i dispetti possibili e immaginabili, però noi contiamo molto ancora sull'aiuto dell'Occidente per vincere questa guerra, quindi Zelensky è stato ancora, tra virgolette, fiducioso in questa intervista che ha rilasciato all'Italia. Beh, l'intervista si deduce, ah preoccupazione per l'inverno, non ci dubbio, sappiamo perfettamente che i russi proveranno ancora ad attaccare linee elettriche, io tendo a pensare che non sarà una crisi a cui gli ucraini sono impreparati, perché è vero, il vero anno scorso l'Ucraina ha dovuto far fronte a questa città in particolare, Odessa, a diversi blackout, adesso diciamo non c'è più la sorpresa e soprattutto quando gli ucraini hanno riparato i loro vecchi e troppo centralizzati sistemi di distribuzione sovietici, hanno iniziato a ripararli creando materiale nuovo e anche facilmente sostituibile, però questo diciamo purtroppo lo possiamo soltanto riscontrare sulla nostra pelle in futuro. Zelensky deve mostrarsi per forza fiducioso, deve comunque tenere alto il morale della popolazione, riguardo all'offensiva non c'è dubbio che c'è un certo imbarazzo, un certo imbarazzo perché tutti ci aspettavamo uno sfondamento, cioè un dilagare delle truppe ucraine che arrivassero fino al mare, però va detto anche che abbiamo anche capito cosa stanno facendo, cioè gli ucraini tra sacrificare molti uomini, quindi fare un attacco in massa che avrebbe creato i giganteschi perdite, hanno preferito creare una guerra di logoramento, cioè creare e ci sono riusciti fino adesso più perdite al nemico, questo dà agli ucraini più respiro per l'inverno, cioè i russi stanno consumando le loro truppe migliori per trattenere gli ucraini e queste sono le truppe che non possono più riutilizzare per perdite e per fatica durante l'inverno per fare scherze agli ucraini, ecco questa una sintesi di questa offensiva per dare un senso al perché gli ucraini hanno combattuto in questa maniera. Senti, ti dico una cosa che ho sentito un paio di volte da fonti relativamente autorevoli, se facciamo questo scenario, dovesse esserci per una serie di motivi una diminuzione dell'apporto militare a Kiev, se i russi dovessero recuperare una certa aggressività, si parla addirittura di nuovo di un Odessa in pericolo, ti risulta oppure no? No, io credo di no perché se vogliamo mettere tra i progrossi successi di questa guerra è stato quello di avere, diciamo, fiato piazza pulita di una parte del Mar Nero dalla presenza russa, allora Odessa è sempre a rischio da un punto di vista di cielo e io ne so qualcosa perché abbiamo gli allarme aeri notturni e ci hanno anche, abbiamo già raccontato nelle precedenti puntate, colpito edifici anche storici di Odessa, quindi la vulnerabilità di Odessa dal cielo rimane, anche se la città è molto ben protetta, però una percentuale piccola ma di qualche missile o qualche drone che può colpirci rimane sempre. Quali sono gli altri due rischi? Uno era il mare, ma la strategia ucraina che è un paese, l'Ucraina senza una flotta, è riuscita a sbaragliare la flotta russa, cosa significa? Anche questa è una notizia che mi ha pubblicato oggi, ormai è evidente, la flotta russa ha abbandonato la Crimea largamente, si è ritirata nei porti russi di Novorossisk e altri perché è troppo rischiato per le navi russe avvicinarsi al Mar Nero, allora dal punto di vista di mare non ci sono più preoccupazioni e questo è una notizia molto importante, vorrei sottolinearla, sta aumentando, sono già raddoppiate le navi mercantili che stanno arrivando nei porti di Odessa perché si sono rese conto che le navi russi non possono più venire a intercettarne. L'altro aspetto è quindi quello della terra, a Odessa potrebbe essere in pericolo se, ma diciamo se, i russi tornando all'attacco riuscirono a fare quello che non sono riusciti a fare un anno fa, quando erano molto più forti, sfondare le difese ucraine e venire a conquistare la città da terra. Questo sembra uno scenario proprio fantascientifico, dirò di più, è più facile che i russi provino a conquistare Kiev che non a venire fin qui a Odessa perché è molto più impervio raggiungere questa città da terra. Va bene, abbiamo fatto una disamina, mi sembra, delle questioni principali, c'è rimasto un minuto e mezzo per la nostra storia della settimana, un particolare che vuoi aggiungere sulla vita al tempo della guerra di Odessa. C'è stata una cosa affascinante, abbiamo avuto un bello spettacolo all'opera di Odessa, l'opera pucciniana La Bohème, la cosa affascinante è che era diretta da un direttore d'orchestra giapponese che parlava italiano in maniera molto simpatica perché è direttore artistico, lo è stato per diversi anni del teatro di Bologna e adesso lo è di Modena, vent'anni che lavora in Italia, quindi abbiamo avuto un direttore giapponese che portava l'opera lirica italiana a Odessa in Ucraina. Questa commistione di culture e di stili musicali è stata un bouquet, una cosa quasi unica. Mi fa piacere anche vedere che su questa notizia, che ha a che fare anche con la forza, spesso di comunicazione, di inclusività della cultura, ti hai ritrovato il sorriso in quelle che sono sempre corrispondenze molto complicate perché ricordiamocelo che questa guerra ancora c'è, è ancora dura e ancora preoccupa. Speriamo che da qualche parte, prima o poi, si trovi uno spiraglio serio per la pace. Grazie a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, in collegamento con gli studi di Milano di Italpress da Odessa e appuntamento con te alla prossima settimana. Arrivederci e buon lavoro e arrivederci anche a voi che ci avete seguito.